40 persone ferite, una in condizioni gravi. Sono tutti studenti danesi di te, compresa tra i 16 e i 19 anni, ad essere rimasti coinvolti in un incidente di autobus in Germania vicino a Monaco. Secondo una prima ricostruzione, il conducente non avrebbe visto il cartello che indicava l'altezza massima di 3 metri e mezzo per il passaggio di mezzi sotto il ponte.